4 frasi da evitare in italiano Ciao, io sono Ilaria di Lasette.com e benvenuti all'episodio numero 181 del mio podcast Italian Language In esso troverete tante spiegazioni per imparare e migliorare l'italiano ma anche tante curiosità sulla cultura italiana Nell'episodio di oggi vi presenterò alcune frasi da evitare a tutti i costi quando parlate in italiano Siete curiosi? Allora andiamo a scoprirle! Quando si impara una lingua straniera la prima cosa che si deve fare è accettare che la lingua che si sta imparando ha regole e strutture diverse dalla propria Questo ci consentirà di evitare le famose traduzioni parola per parola che potrebbero confondere o far sorridere chi ci ascolta È proprio questo ciò che voglio mettere in evidenza nell'episodio di oggi Alcune frasi che sento spesso dai miei studenti e che in italiano non funzionano bene proprio a causa di una traduzione troppo letterale dall'inglese Ricordate Non usate le frasi che sto per presentarvi anche se per voi non hanno nulla di male Potreste dire cose molto negative su voi stesse o sugli altri e urtare la sensibilità di qualcuno pur non rendendovene conto Bene A questo punto vediamo quali sono le quattro frasi italiane da evitare o al massimo da usare con cautela 1. Essere sbagliato Essere sbagliato è spesso usato come traduzione di You're wrong ma in realtà non è la forma corretta Essere sbagliato significa avere qualcosa che non va Avere dei problemi talmente gravi che sarebbe quasi meglio cessare di esistere Da questo potete capire che dire a qualcuno tu sei sbagliato oppure rivolgere questa frase a se stessi dicendo io sono sbagliato equivale a dire qualcosa di molto offensivo per gli altri e per noi stessi Ma allora qual è la forma corretta per tradurre in italiano I am wrong You are wrong In italiano possiamo dire Io ho torto e tu hai torto Visto che stiamo parlando di questa espressione vorrei spiegarvi velocemente il suo contrario In italiano non diciamo mai Io sono corretto Tu sei corretto oppure Io sono giusto Tu sei giusto Ma Ho ragione Hai ragione Due Essere finito Ecco un'altra frase che può essere annoverata tra quelle da evitare in italiano Anche se essere finito è spesso usato come traduzione di I'm done I'm finished esso equivale da un lato a minacciare apertamente qualcuno usando ad esempio la famosa frase Sei finito Dall'altra parte invece se ci si auto rivolge la frase sono finito si sta ammettendo una grave sconfitta dichiarando che non c'è più speranza non c'è più nulla da fare e non è possibile che la propria situazione migliori Tipicamente questa è l'espressione usata da chi vede le proprie finanze evaporare e i propri sogni andare in fumo 3 Essere fatto Altra traduzione un po' troppo letterale di I'm done è essere fatto che in realtà in italiano significa aver abusato di sostanze stupefacenti quindi quindi di droghe Da questa breve spiegazione è chiaro che chiedere agli altri sei fatto invece di hai fatto non è raccomandabile anzi tutt'altro Attenzione vorrei farvi notare un dettaglio nell'uso di questo costrutto e cioè che talvolta con amici con i quali c'è un rapporto molto stretto si potrebbe chiedere Sei fatto? Siete fatti? Quando c'è qualcuno che sembra essere particolarmente vivace e rumoroso rispetto al solito Ricordate però di non usare queste frasi a cuor leggero e se proprio dovete usarle fatelo solo con coloro che conoscete davvero bene 4. Essere superiore, inferiore Sono certa che tutti voi sapete che l'italiano vi dà la possibilità di dire la stessa cosa in modi diversi Ed è proprio questo che succede ad esempio con più buono uguale migliore più cattivo uguale peggiore più grande uguale maggiore più piccolo uguale minore Oltre a queste vale la pena ricordarne altre due Superiore e inferiore Però fate molta attenzione a come le usate perché sono termini che vanno adoperati con accortezza Infatti, anche se superiore significa più alto e inferiore più basso in italiano non usiamo mai questi vocaboli per indicare l'altezza delle persone o indicare caratteristiche fisiche delle popolazioni Dunque, meglio evitare frasi come Io sono superiori a te e tu sei inferiore a me che potrebbero farvi apparire decisamente arroganti e presuntuosi caratteristiche tutt'altro che positive Inoltre, è anche bene evitare paragoni del tipo Mediamente, i popoli del nord Europa sono superiori a quelli dell'Europa meridionale Anche se con superiori e inferiori volete intendere alti e bassi A queste quattro frasi vorrei aggiungerne un'altra che ho già menzionato in un articolo precedente chiamato i 5 errori più comuni in italiano Fa senso che per molti è la traduzione di It makes sense Ricordate It makes sense in italiano non è fare senso ma è avere senso Dunque, va bene dire Ilaria, la tua spiegazione ha senso ma non va bene dirmi Ilaria, la tua spiegazione fa senso Se volete approfondire questo concetto correte a leggere ed ascoltare quest'articolo Conclusione Ci sono alcune frasi Per questo audio non perdere l'occasione di dare un'occhiata al mio sito web www.ilaset.com dove troverai tante altre spiegazioni e curiosità sull'italiano